Anche a Chiavari potranno attraccare le navi da crociera nel punto di fonda individuata a 12 miglia a largo e potranno sbarcare i croceristi sulle banchine del porto. In queste ore la Capitaneria di Santa Margherita Ligure ha infatti dato via libera alle integrazioni approvate dal Consiglio Comunale dello scorso 29 luglio al regolamento del 2014. Tre le aggiunte che sono state fatte all'articolo 23 dell'attuale carta, quella che regolamenta l'utilizzo dello scalo turistico. Tre articoli che disciplinano la arrivo delle navi nell'area autorizzata in rada e le modalità di comunicazione con la torre di Marina Chiavari. Abbiamo anche regolamentato l'accesso dei tender, le misure di safety e security e anche tutto il regolamento attinente il trasporto dei passeggeri all'interno del porto. Quindi sono atti propedeutici sempre nel percorso che stiamo portando avanti di far sì che Chiavari sia dal punto di vista turistico sempre maggiormente attraente. Tutto è pronto e in regola dunque per accogliere la prima nave da crociera che sceglierà di fare scalo a Chiavari. Intanto per lo scalo gestito dal Comune attraverso la partecipata Marina Chiavari si sta per mettere in archivio una stagione più che positiva. Tanti gli eventi culturali che sono stati promossi all'interno dell'area portuale per uno scalo che quest'estate ha registrato il tutto esaurito anche dopo l'ampliamento dei posti disponibili. Abbiamo messo 38 posti bar che sono stati tutti prenotati e tanti sono proprio cittadini chiavaresi per cui è un porto che ha grandi yacht ma anche piccole imbarcazioni quindi un porto per tutte le tasche e devo dire che al completo sono molto fiducioso anche la parte ampliata ma calata ovest sta andando molto bene in quella parte lì vi sono i normaggi di dimensioni più grandi e al momento è completo anche la parte di calata ovest.